va bene lo stesso tanto tappeto persiano è persiano che bel cane guarda come hai detto che si chiama non ho capito niente mirsa cosa vuol dire a mirsa bellissimo bellissimo tappeto persiano grazie mille ciao scusa mi dai il nome basta il nome tuo non del cane non si può va bene ok ciao grazie